Io ero da ragazzino, ero molto pretenzioso, mi prendevo per molto importante e volevo essere poeta. Avevo 16 anni a Lugano e non erano un gran successo le mie poesie e così mi sono ribattuto sulla fotografia, che era un fort de mieux, il meno peggio. La bellezza della poesia è che si combinano delle cose, il chiaro di luna e l'amore o quello che si vuole, ma insomma è la combinazione di due cose. E la fotografia permette questo. E dunque finalmente forse tutte le mie fotografie, più che ritratti o paesaggi, erano il fatto di mettere insieme delle cose, di far pensare a delle associazioni di idee. E questo l'ho fatto in parecchi modi, come anche altri fotografi, non ero unico, ma ero un po' concentrato su questo. Cioè non dimostrare una cosa, ma dimostrare come due o parecchie cose andavano insieme. E poi recentemente, non so, forse due anni o tre anni, mi sono detto forse lo posso fare anche mettendo due fotografie insieme. E l'idea era ancora una volta, quello che facciamo nel nostro cervello continuamente, delle associazioni di idee, che è poi l'idea della poesia. E per... ci voleva una forma, in modo che quelli che guardano sappiano che gioco sto giocando. E dunque questa forma è stata questa dei diptych. Quello che è interessante è perché questo fotografo li ha messi insieme. E cosa voleva dire mettendoli insieme? Dunque uno li guarda e ci riflette un po'. E dopo quest'idea, mi sono detto, mi piacerebbe questi miei dittici metterli in qualche posto pubblico, dove la gente viene e non li aspetta. E dunque è un po' sorpresa. Sorpresa dal fatto che le immagini, quando andiamo in un luogo pubblico, se ne vedono dappertutto. Ma sono immagini che sono fatte per vendere qualcosa. Delle scarpe, dei salami, qualsiasi cosa, del formaggio. E mi sono detto che forse quelli che le vedono queste foto per strada, la prima cosa che si chiedono è cosa vuole vendermi questo. E invece non gli voglio vendere niente. Ti faccio vedere una cosa, se la vuoi guardare la guardi, se non la vuoi guardare, non la guardi. Ma è una cosa gratuita. Non solo la guardi, ma puoi siederti perché il fotografo ha messo queste due cose insieme. Un giochetto. Grazie a tutti.